Cristian ha 48 anni e fa il pasticcere. Qualche anno fa ha subito un grave infortunio. Oggi con Inail è tornato al suo lavoro. La vita può continuare come prima. Grazie a un progetto di reinserimento lavorativo di Inail, gli spazi del laboratorio sono stati adattati alle sue nuove esigenze. Scopri di più su Inail.it Inail, la persona al centro del nostro impegno.